Sette furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri. I militari della compagnia di Ascoli, in collaborazione con i carabinieri del nucleo espettorato del lavoro in sinergia con l'Inps, al termine della loro attività di indagine coordinata dalla procura sul monitoraggio dei percettori di reddito di cittadinanza, hanno scoperto irregolarità sui requisiti di alcuni cittadini che vivono nel Piceno. Da mesi, sette di loro percepivano un reddito di cittadinanza notevolmente superiore a quello spettante. Avevano infatti volutamente omesso di comunicare notizie riguardanti la propria condizione giuridica o dei propri familiari conviventi, inclusi soggetti agli arresti domiciliari, riuscendo così ad ottenere mensilità ben più elevate. L'importo complessivo delle somme indebitamente percepite ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro. Grazie agli accertamenti tempestivi e alla segnalazione all'Inps, si è impedito l'esborso di ulteriori ingenti somme di denaro e sono già state avviate le procedure per recuperare quelle versate. Le sette persone di età compresa tra i 45 e i 65 anni sono state denunciate alla procura di Ascoli per indebita percezione del reddito di cittadinanza per tali illeciti e prevista la reclusione dai 2 ai 6 anni. Grazie a tutti.